E ancora il maltempo a condizionare il campionato di Serie D. Dopo le tre partite rinviate la scorsa domenica, sono già due quelle che saltano per la seconda giornata di ritorno. Ieri l'ufficialità del rinvio al 30 gennaio di Agnonese-Cesena. Nella tarda mattinata di oggi la comunicazione è che Materi Capineto, prevista per domani, non si giocherà e sarà recuperata mercoledì 23 gennaio, ore 14.30. Un match che era quello più importante di questa ventunesima giornata con gli Adriatici pronti a sferrare l'attacco al secondo posto occupato proprio dal Materica. Per il resto, come sta diventando prassi quando incombe un infrasettimanale, il turno prevede diversi anticipi. In ottica abruzzese saranno in campo domani Francavilla, ore 14, Avezzaro e Notalesco, ore 14.30. Dopo due trasferte proficue torna tra le muramiche il Francavilla che si è sbloccato in trasferta sul campo della Samiglianese e ha strappato un punto d'oro a Pineto. Deve però fare i conti con l'infortunio di Palumbo. Di contro il Valle Anzucar arriverà a un campo basso rilanciato dal mercato con 10 punti nell'ultime quattro partite del 2018 e che a gioco forza ha riposato nella prima domenica dell'anno nuovo, partita rinviata a causa maltempo con la Sangiustese. Giallo-Rossi di Rachini a caccia di punti preziosi in chiave play-off. Stesso discorso per il Notalesco che ha riassaporato domenica scorsa il gusto della vittoria dopo quasi due mesi. Sfattato questo mini tabù, i rosso-blu di Cudini sono pronti a dare battaglia alla Re Canatese in quello che è un vero e proprio scontro diretto tra due squadre appaiate a 33 punti. Re Canatese senza Olivieri, fermato dal giudice sportivo, duello tra grandi attacchi, da una parte Pera e Sivilla, dall'altro il tridente Moretti, Liguori, Minella, gara che promette tanti gol. Match importante in chiave salvezza per l'Avezzano che si affida al Fortino dei Marzi per avere la meglio sul Coriaceo Montegiorgio. Dopo l'addio di Deramo il tecnico dei Marzi Cani Federico Giampaolo può contare su alcuni rinforzi. Se l'esterno Simone Fulvi era già andato in panchina a Cesena, saranno a disposizione dal match di domani l'attaccante Mattia Bruni nella prima parte di stagione ad Arzachena. Arriva in prestito dalla San Benedettese, lo scorso anno una delle poche note liete dei Nero Stellati in Serie D. E il centravanti senegalese Scuola Genoa, Falù Samb, ex Ancona, che nella prima parte di stagione è stato in una squadra della Serie A Maltese. Domenica invece toccherà a Vastese e Giulianova, entrambi in trasferta sui campi rispettivamente di San Maurese e Castelfidardo.